Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione global. Incredibilmente oggi sono riuscito a portare ben due contenuti di Opera Omnia sul canale. Oggi alle 15 è uscita la prima parte del raid boss, o per meglio dire la challenge quest, la prima challenge quest, dove andiamo ad affrontare il drago accompagnato da Exdeath. Mentre adesso andremo a vedere come ho affrontato e superato questa seconda challenge quest, questa seconda parte, dove andremo ad affrontare il boss accompagnato da Sephiroth. Naturalmente il team rimane uguale a quello della prima parte, che se magari vi siete persi vi lascio in alto a destra nella scheda. Il team è naturalmente composto da Rinoa, Ardyn e Liliset. Stesso team, con l'unica differenza. Stavolta sono riuscito a fare qualche artefatto ad Ardyn. Nulla di che, ma adesso ve lo mostro. Mi sono usciti due 108, quindi va bene. Però, insomma, non sono probabilmente il top. Ma ci accontentiamo. Dai, alla fine, 108, 108. Direi che un buon aumento d'attacco ci può stare. Ed anche la summon è rimasta la stessa, ovvero Shiva. Sempre per il suo bonus all'attacco e alla velocità, eccetera, eccetera. E dunque abbiamo superato questo stage Chaos in 56 turni, senza subire il KO, senza subire danni HP. Naturalmente, andando ad utilizzare i personaggi sinergici e con uno score di oltre un milione. Questo stage, ragazzi, è identico a quello della prima parte dove lo affrontiamo con Exdeath. Il drago non cambia. È sempre lo stesso, stesse skill, nulla di che. Per quanto riguarda Sephiroth, beh, è un po' come Exdeath. La sua Black Materia funziona proprio come la Grand Cross di Exdeath. Più Brave avete, più danni vi farà. Dunque, quando vedete Sephiroth che sta per farvi un'attacca o è, cercate di diminuire il più possibile il vostro Brave, così da ridurre i danni subiti. Anche perché in combo con un attacco del drago potrebbe causare la morte di uno o più membri del vostro party. Dunque, dovete stare attenti a questo più che altro. Cercate di diminuire il vostro Brave quando Sephiroth vi attacca con la sua Black Materia. E direi che non ci sia altro da dire per quanto riguarda questo stage chaos, questa challenge, questo raid boss. Dunque, io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video. Attivare la campanellina, così da non perdervi tutti i prossimi episodi. E detto ciò, vi lascio lo stage chaos. Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 grazie a tutti.